Ciao ragazzi e ciao ragazze Splendor Family bentornati sul canale Oggi sono qua finalmente per farvi rivedere un pochettino di shopping Da quanto tempo è che non facevo shopping Ma sono stata brava perché ho utilizzato la card di Zara che mi hanno regalato il compleanno Quindi di mio c'è veramente pochissimo Di soldini che sono usciti dal mio portafoglio ce ne sono veramente pochissimi E comunque mi sto anche impegnando in questo periodo a non cedere appunto alla tentazione Sembra quasi una minaccia religiosa Però effettivamente è così Ultimamente sono di più per pochi acquisti ma buoni E quindi vi faccio vedere che cosa ho portato a casa Quindi cominciamo appunto con gli acquisti di Zara E direi di cominciare da questo primo sacchettone gigante Oddio ma quanto è bello vedere la scritta Zara a casa propria ragazzi sui sacchetti Vabbè comunque Allora all'interno di questo mega sacchettone C'è un capo d'abbigliamento che avevo anche chiesto di suggerirmi Di consigliarmi in quale dei due colori acquistarlo Che vi ho fatto vedere nelle stories su Instagram E ragazzi incredibile Tutte, tutte, tutte Ma avete risposto del colore che poi alla fine io ho comprato Non potevo aspettare di ricevere abbastanza risposte per fare una scelta E quindi ho detto dai lo compro del colore che più mi piace Che più sento che posso utilizzare E alla fine nelle 24 ore di durata appunto della storia di Instagram Mi avete risposto tutte Prendilo color cammello E quindi color cammello Ma di che cosa ragazzi Perché altrimenti sembra che sto parlando di non si sa che Sembra che io abbia portato a casa un cammello Ma invece ho portato a casa questo morbidissimo cappottino Che io amo, adoro Anche se adesso fa un caldo della miseria e sto sudando Cioè è un capo che quando l'ho visto ho detto No, quello deve essere mio Ho detto per fortuna che ho la card di Zara Solo che in pratica mi ha quasi polverizzato tutto quello che c'era sulla card regalo Perché questo qui costa 59,95 euro E c'era anche nel colore rosa E ragazzi devo dire che sono stata abbastanza indecisa fino all'ultimo Perché di questo color qui cammello lo posso abbinare con un'infinità di cose Con un sacco di outfit Quelli sportivi, quelli un po' più eleganti Quello rosa invece lo vedevo prevalentemente per un outfit sportivo Quindi ho detto no, questo qui io lo voglio utilizzare Anche quando mi vesto in maniera un pochettino più formale E quindi alla fine l'ho preso fatto così Tra l'altro è sofficissimo, morbidosissimo Sembra veramente un mega peluche All'interno è foderato E secondo me terra abbastanza caldo Ovvio in pieno inverno quando fa freddissimo Questo non basta O gli mettete sotto uno di quei piumini ultra leggeri Oppure questo, poi io che sono freddolosa cronica Però diciamo che in autunno è veramente molto 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 carino Mi è piaciuto un sacco C'è anche il suo bottone di ricambio Cosa che io apprezzo tantissimo di Zara Che ogni volta mette i bottoni di ricambio E niente, quindi questo è stato il primo acquisto Poi siete pronti per un altro sacchetto? Tadam! Sì perché non sono andata nello stesso periodo Non ho comprato tutto nello stesso giorno E che cosa ci sarà mai qui all'interno? Soprattutto guardate questo sacchetto Si è anche bucato E sembra quasi il buco fatto da un tacco E voilà! Sì ragazzi c'è un paio di scarpe Io amo le scarpe di Zara E devo dire che negli ultimi anni Secondo me stanno migliorando tantissimo Anche la comodità Il fattore comodità Perché i primi anni Mi ricordo che la maggior parte delle scarpe di Zara Parlo di quelle con il tacco prevalentemente Erano importabili Cioè mi rovinavano tantissimo i piedi Invece nel corso degli anni Ho notato un miglioramento Per fortuna Anche perché i prezzi appunto Nel corso degli anni Non sono rimasti gli stessi Ma sono aumentati E io ho preso questo paio di scarpe qui Non ne ho comprata solo una eh ragazzi Ce l'è un'altra dentro Eccole qua Fatte così Appunta Che non è un modello di scarpe Che io amo particolarmente Anche perché ho il piede già abbastanza grande Perché porto un 41 barra 42 Quindi il piede è già abbastanza lungo E la scarpa appunta Mi fa sembrare i piedi ancora più lunghi Però questo modello qui Mi è piaciuto veramente tanto Ha il tacchettino piccolino corto Fatto a goccia Quindi è un paio di scarpe Che potete utilizzare paradossalmente Dalla mattina alla sera Senza spaccare di piedi Senza aver mal di schiena E senza aver mal di gambe E ho voluto azzardare Le ho prese in questa stampa qui Animalier Perché quest'anno Andrà tantissimo questa stampa qua Non so se ci avete già fatto caso Ma ci sono un sacco di capi di abbigliamento Tutti Animalier Che da abbinare Non sono così facili E queste scarpe qui Costano la bellezza di 59,95 euro Quindi costano 60 euro Che non è tantissimo Però magari da Zara Ti aspetti di spendere qualcosina di meno Però forse appunto una volta E veniamo all'ultimo piccolo acquisto Che ho fatto Ragazzi vi ho detto Che sono stata brava Anzi questo qui Mi sento già un pochettino in colpa Per aver speso questi 12 euro E mi sta a 95 centesimi Perché voglio veramente risparmiare Voglio cercare di essere più brava Comunque è all'interno Di questo sacchettino qui Di Stradivarius Un altro negozio Che veramente È la mia rovina Cioè Zara e Stradivarius Sono proprio la mia rovina Ma avevo già visto Questo cappellino qui Che mi piaceva un sacco Fatto a costine così In semi velluto Di questo bellissimo rosa Con la scritta Girl Ed è un cappellino Che utilizzerò durante l'inverno E finalmente Sono contenta Di poter mettere I cappellini Senza sembrare Una Sfigata Perché fino a quando avevo I capelli corti Tipo fino qua Qualsiasi cappellino Io mettessi Mi faceva quel bruttissimo effetto E quindi mi vergognavo Non mettevo Cappellini fatti così Neanche quelli tondi Con la tesa larga Mettevo solo dei berretti In modo che vabbè Tutto sommato Rimanessero lì Però adesso che finalmente I capelli sono cresciuti Sì Posso ritornare a mettere Anch'io i cappellini Senza sembrare Una sfigata E questo qui Mi piace molto E soprattutto Secondo me È È Ragazzi Non l'ho preso Color rosa Ma ho trovato Lo stesso qualcosa Di color rosa Da poter abbinare Secondo me Ci sta troppo bene quindi bene basta lo shopping si è concluso qui a dire il vero ho acquistato anche un paio di ciglia finte di Ardell ma questa è un'altra storia le vedrete in un altro video il mio shopping è finito qui ringrazio di nuovo la mia sorellona per avermi regalato per il mio complanno la card di Zara così mi ha fatto risparmiare tanti soldini e niente spero che questo video vi sia piaciuto spolliciate fatemi sapere che cosa ne pensate di questo animalier appunto di questo maculato che questo inverno lo troveremo ovunque perché a me piace però non è così semplice ad abbinare non è così facile soprattutto per le ragazze molto giovani è un pochettino ostico comunque scrivetemi che cosa ne pensate appunto di questa moda di questo inverno giù nei commenti io vi mando un grosso bacio ci vediamo sempre qui in un nuovo video ciao ciao